Questo è un locale vietnamita, è una festa proprio della tradizione vietnamita, una piccola festa, seguono proprio chi segue come lui, l'anziano, è una festa importante, faccio vedere cose male. E' una festa ieri, una festa insegnata, proprio i atelier in estate, veramente in estate in Vieta, e che succede via proprio tutti i tempi, ci sono dei atelier in Vieta. Che usano i vietamini per le foglie, grosse, a volte le mani, e questo è che si porta un pochino a casa di via al bar, e in tanti quei amici, che guardano le sedite, hanno proprio il cuore rosso. Ok. Perché secondo creazione di vietamina, dieci vietamini, nel servizio della vietamina, è proprio il vietamina. Grazie a tutti.